Benvenuto Simone Buongiorno Allora Simone, quello che stavo dicendo un po' ai nostri ascoltatori è che sei un personal trainer quindi devi partire dalla base del... raccontaci un pochettino la tua storia da istruttore Allora, tutto comincio... allora, porto diciamo da quella che è l'origine dallo sport da ciò che è nato, parliamo così Ok, sì sì, va bene Allora, tutto comincio con una banale storia io semplicemente avevo, diciamo, delle energie represse la notte grignavo i denti e mi sentivo abbastanza nervoso quindi cosa è successo? Il dentista, i medici hanno consigliato ai miei genitori guardate, tuo figlio deve assolutamente fare sport perché ha bisogno di sfogarsi Io ovviamente avevo sempre avuto una grande passione per il fuggilato e avevo deciso così di fare il fuggire Quindi cosa è successo? Ho fatto la scelta, diciamo, di operare al naso però dovendo fare appunto questa operazione non potevo poi continuare quindi la certa cosa è stata? Appunto quella di andare a curare la mia forma fisica Una volta che poi sono arrivato in palestra le mie istrucrici, quelle che erano al tempo le mie istrucrici avevano detto tu vieni con noi Io non trattavo appunto neanche di cosa parlassero e invece si trattava proprio di andare con loro a fare delle gare di bodybuilding quindi prepararmi per fare questo perché avevano notato delle lotti nell'esecuzione nella cura dell'esecuzione e quant'altro